Cari amici, in un paese libero io cerco di aiutare chi ha bisogno. Ho dato Nicol Minetti a Lele Mora e so che quando potrà mi restituirà quanto gli ho prestato. In realtà a Lele Mora non è evidentemente piaciuto, tanto che subito dopo, con una tempistica perfetta, ho dato il miglio fede a Nicol Minetti e sono orgoglioso di averlo fatto. A me piace il miglio fede da sempre, anche sotto il profilo sessuale e del resto io da quando mi sono separato, non avrei mai voluto dirlo per non dare un'esposizione mediatica, ma ho avuto più di cento uomini, tra cui pubblici ministeri e sono orgoglioso di averlo fatto. In conclusione, il miglio fede può essere stato turbato da quelle serate, perché tutto si è sempre svolto a cena o nei dopo cena, effettuando una gravissima correlazione fra denaro e prestazioni sessuali.